Ciao ragazzi benvenuti in questa puntata che non è della serie monetizza ma oggi infatti vi parlerò del risultato che è stato questo test che ho voluto fare sul mio canale youtube ho iniziato tre mesi fa era il 26 agosto e ho deciso di fare questi 12 video per tre mesi quindi un video a settimana per vedere quali sarebbero stati poi i risultati di questo esperimento allora partiamo dal presupposto io su youtube non ero indicizzato molto bene partivo con circa 350 iscritti e ho portato avanti questo esperimento appunto per questi tre mesi per vedere quello che sarebbero stati poi i risultati partiamo dal principio il mio argomento di divulgazione i miei contenuti sono esplicitamente di marketing avanzato marketing professionale quindi io parlo del marketing rispetto alle abitudini di acquisto delle persone quindi molto meno numerico che è poi quello strategico e esecutivo che viene in un secondo momento ma cerco di divulgare il perché avvengono certe situazioni e il perché si verificano certi trend o per esempio certi tipi di comportamento delle persone legati proprio all'acquisto è un concetto un po più complesso che però sono le fondamenta del marketing infatti se tu vuoi diventare un marketer professionista vuoi fare questo mestiere e ovviamente devi passare dai desideri di mercato le abitudini di acquisto eccetera eccetera quindi questa opera di divulgazione è molto importante anche per far sì che le persone siano consapevoli di quello che è poi il marketing la pubblicità e la comunicazione nel suo senso vero quindi la verità di quello che serve veramente al mezzo di comunicazione per arrivare alle persone quindi detto questo che è un concetto che passa tra il filosofico e poi l'esecutivo che poi sono i numeri dei risultati che dobbiamo avere perché ovviamente il marketing a un certo punto deve produrre una metrica deve avere dei risultati quindi diciamo che possiamo sì partire dall'abitudine ma poi dobbiamo trasformare il tutto in numeri ecco la difficoltà vera del marketing molto spesso su youtube e i miei concorrenti i miei colleghi i miei amici che parlano di marketing parlano soltanto di un marketing numerico parlano di un marketing esecutivo oppure parlano di un marketing che semplicemente è preso da una cultura di vesta e riportato nella nostra cultura questo ovviamente non è fattibile perché immaginati già soltanto la differenza linguistica quanto può fare poi nella comprensione di quello che sono gli input che riceviamo dei contenuti quindi la lingua italiana è molto più complessa di quella inglese e per esempio la lingua tedesca è molto più complessa e precisa di quella italiana quindi non è possibile fare soltanto una trasformazione linguistica ma bisogna anche capire i processi culturali ecco perché mi sforzo tanto in questa opera di divulgazione di marketing per far capire appunto che tutto parte dalle abitudini di acquisto quindi i miei temi trattati sono questi un po più di nicchia da quello che è magari il desiderio di mercato di diventare ricchi quindi molte persone seguono i marketer perché vogliono arricchirsi velocemente e seguono questo desiderio di mercato e magari se incappano nelle mie filippiche lunghissime di marketing filosofico che ti spiego il perché una cosa succede magari questo potrebbe rimanerne un po deluso e difatti qualcuno è ha capitato che mi ha scritto mi ha detto marco sì belli i tuoi video però in realtà io come faccio fare i soldi con quello che tu mi dici non trovo l'applicazione questo perché all'inizio mi ha un po dire cavoli guarda sto stronzo in realtà invece aveva ragione perché comunque questa persona al 100% segue altri marketer che gli danno strategia di pillola magica quindi risultati se fai questo ottieni questi risultati ecco il marketing è tutt'altro rispetto questo è la mia lo mio sforzo di divulgazione sta proprio per insegnare questo alle persone quindi di base ho detto ok cosa devo fare devo calibrare la mia divulgazione su questo tipo di persone oppure devo continuare la mia scelta è stata quella di continuare sul mio quindi spiegarti i vari tipi di situazioni in cui si può creare una vendita piuttosto che un acquisto piuttosto che un bisogno e cercare di spiegarti il perché avvengono determinate cose perché è importante conoscere benissimo le abitudini di acquisto i desideri di mercato e saperci creare sopra delle offerte questo è il mio non posso cambiare la mia divulgazione per accontentare magari delle persone che vogliono tac fammi guadagnare con una tecnica velocemente anche perché lì poi si va a innestare un meccanismo tu segui un formatore che ti insegna a fare soldi vendendoti corsi di formazione è una ruota di un criceto che gira è un cane che si morde la coda quindi tu impari quel sistema e poi l'unica cosa che puoi fare è copiarlo e quindi anche tu vendere corsi di formazione per diventare ricchi e gira e rigira molte di queste persone prendono i corsi americani e li traducono in italiano magari anche facendo un buon lavoro un buono sforzo creando dei contenuti tutti i giorni lo sforzo non nego che ci sia però questo non è il marketing ragazzi il marketing deriva dalle abitudini di acquisto e si trasforma semplicemente creandoci delle offerte specifiche quindi devi saper vendere delle arance devi saper vendere delle lampadine piuttosto che saper vendere delle informazioni il vero marketer professionale parte da questa base e arriva a comunque a vendere diciamo qualsiasi cosa poi sbagliato perché magari qualcuno è più concentrato su una nicchia o su un argomento io per esempio come marketer ho spaziato veramente anche perché sono una persona molto curiosa ho spaziato in diversi settori diverse nicchie tantissimi sono passati vent'anni e il mio sforzo però comunque rimane sempre quello di rimanere focalizzato sui miei argomenti quindi ho mantenuto questo però testato vari tipi di recitazione quindi ho provato a fare una narrazione più lenta che parla in maniera semplice che parla in maniera chiara e poi ho provato a fare una narrazione più veloce come quella mia naturale quindi anche su questo cercavo di testare le musiche di sottofondo i video da mettere come transazione eccetera ho fatto delle prove non ho avuto un'esplosione in questi periodi se devo dirti la verità cioè non c'è stata quell'esplosione che ti dico cavoli ragazzi fatelo anche voi perché otterrete questo risultato è stata una crescita molto esponenziale e molto lenta questo anche perché i miei argomenti ovviamente non sono di trend non sono quella cosa che ti fanno esplodere il canale in un secondo anche perché è molto complicato farlo se tu fai un'opera di divulgazione narrativa come la mia quindi devi aspettare che tra le persone che guardano incontri le persone che sono appassionate magari a questo tipo di argomenti e non è così semplice ovviamente ho spinto un pochettino anche con delle pubblicità anche per andare a testare quel tipo di ads sui video ok solitamente non lo si fa per i video narrativi quello lo tieni per la tua community però il mio obiettivo principale è quello di espandere la mia community espandere le persone che ascoltano i miei video e creare nuovi chiamiamoli fan comunque persone che mi seguono ho spinto un pochettino quindi con le ads non molto mettevo circa 10 euro al giorno cercando anche di capire quali erano le keywords è chiaro appena mettevo la keywords fare soldi online guadagnare online prendevo molte visualizzazioni a basso prezzo magari mettendo divulgazione scientifica neuroscienze oppure quello che è scienza comportamentale si alzavano i costi e si abbassavano le visualizzazioni però magari lì in mezzo andavo a trovare qualcuno che si appassionava e mi lasciava un buon commento comunque gli iscritti al canale sono saliti di in queste 12 puntate di 250 persone quindi non tantissimo questo ti fa capire che youtube è una piattaforma molto particolare è ottima dal punto di vista del raccoglitore di contenuti perché quei video rimarranno lì non ho fatto video di trend ma sono video evergreen quindi quando ti parlo di il business del tempo piuttosto che marketing per ristoranti oppure il business del video poker quelle cose rimangono e sono molto attuali sempre perché comunque sono desideri di mercato che ci sono e ci saranno sempre magari trasformandosi in qualcos'altro ma comunque la base rimane sempre quella quindi questi argomenti hanno generato dell'interesse molto di nicchia e sarà molto complicato chiaramente diventare forti su youtube però mi ha dimostrato che anche in queste 12 settimane prendendo queste 250 nuovi iscritti tutti quelli che hanno visto i miei video magari non si sono iscritti hanno cominciato a parlare molto di più dei miei video e mi hanno scritto mi ho ricevuto moltissime richieste di consulenza in più rispetto a quelli che erano i trend diciamo della normalità quindi il canale youtube assolutamente va bene te lo consiglierei assolutamente non pensare di avere un'esplosione perché chi ha avuto un'esplosione facciamo finta prendiamo uno luis chiaramente è un caso su un miliardo è molto complicato soprattutto se parli a una nicchia di persone come posso fare io di argomenti specifici è molto complicato che molto difficile scusami che tu possa avere questa crescita velocissima eccetera eccetera quello che potrà succedere è che avrei una crescita molto lenta ma anche costante io per dire inizialmente non facevo molti iscritti poi pian piano ho cominciato a crescere ma in maniera costante quindi prendevo quei pochi iscritti al giorno che magari mi lasciavano un commento positivo quindi per me va già bene così rispetto a quello che youtube che è molto più un ambiente dove è meglio fare pubblicità piuttosto che contenuto in questo momento storico te lo dico perché a differenza di contenuto su youtube ho trovato molte più soddisfazioni quindi su facebook per carità continuo a postare un certo tipo di contenuto che portano a livello pubblicitario mi portano iscritti e profitti per quanto riguarda altri business invece youtube l'ho usato per quello che è la mia opera di divulgazione che voglio assolutamente portare avanti quindi non so ancora bene come andrà la seconda stagione di monetizza mi farò un po' sempre consigliare da voi quindi qualsiasi cosa scrivete pure qua sotto però comunque penso di portare avanti la mia opera pia vorrò poi un giorno farci anch'io una opera su 12 volumi su tutto quello che è il mio sapere su questa cosa anche perché non sono nato imparato ho 20 anni di esperienza ma comunque io tutte le mattine continuo a studiare perché comunque il marketing spazia veramente su tante altre cose sulla filosofia sulla psicologia sul neuromarketing eccetera quindi bisogna continuare a studiare e questo mio percorso io lo farò continuando con i miei monologhi cercando di portare appunto del contenuto valido almeno spero che sia valido su youtube quindi l'esperimento è stato assolutamente positivo non è stato numericamente fantastico da poter dire ragazzi ho un fantastico caso studio da dirvi però mi ha portato dei risultati piccoli ma buoni soprattutto di richiesta di consulenza legato anche al parlare di me quindi molte persone mi scrivono li vedo i tuoi video sono molto fighi sono molto interessanti su youtube non ti riempiono di commenti il commento è molto più complesso su youtube però comunque quando ne trovi uno vuol dire che da lì sono passate tante persone le visualizzazioni sono andate bene ho mantenuto circa una media di 2000 visualizzazioni a video che non è male qualcuno gli ho dato una spintarella ma quella spintarella ha fatto sì che le persone guardassero poi anche gli altri quindi diciamo che questi 12 video sono andati particolarmente bene chi più chi meno magari video poker non è piaciuto tantissimo il business del tempo è piaciuto un sacco anche la storia delle pubblicità è piaciuta nella prossima stagione sicuramente parlerò molto di più di appunto questo tipo di video farò dei video inerenti alla narrazione cinematografica insomma sto preparando delle cose molto interessanti che sono sicuro che piaceranno anche le persone che sono piaciuti quei video quindi non ti resta che guardare le prossime stagioni qualsiasi suggerimento scrivimi scrivimi su instagram mi trovi come marcodoria marketing oppure scrivi un commento qua sotto nessun problema sai che sono apertissimo al dialogo da marcodoria il marketer più scorretto della rete è tutto ci vediamo online ah oh monetizza